Buongiorno a tutti, sono Maddalena Cavicchioli, assegnista di ricerca presso l'Università di Verona e collaboratrice di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia. I miei temi di ricerca riguardano argomenti dell'econometria delle serie storiche. Con riguardo a questi temi di ricerca, un software molto utilizzato è Matlab. Matlab è un software del fornitore The Matworks e necessita perciò di una licenza. La piattaforma Matlab è ottimizzata per risolvere problemi scientifici ed è basata sul linguaggio matriciale, che è il modo più semplice per esprimere la matematica computazionale. Il corso è strutturato in quattro moduli. Il primo modulo vi introdurrà all'ambiente Matlab, al linguaggio delle matrici e ad alcune operazioni scalari e matriciali. Il secondo modulo presenterà le funzioni built-in, i flow statement e la creazione di mFile. Il terzo modulo vi introdurrà alla strumentazione grafica. Infine, il quarto e ultimo modulo applicherà tale linguaggio ad alcuni semplici problemi di analisi delle serie storiche, con dati simulati, dati reali e strutturerà la prima analisi iniziale. Per ogni modulo avrete a disposizione slide e script. Per l'ottenimento del certificato, a conclusione di ogni modulo, vi sarà sottoposto un test a multiple choice. La soglia per il superamento di tale test è fissata a 7 risposte corrette su 10. Vi auguro una buona lezione e vi ringrazio per l'attenzione.